Musica Ben ritrovati con l'informazione di Voggi Salerno. Apriamo con la cronaca. Questa mattina il sindaco del comune capoluogo Vincenzo Napoli si è recato negli uffici dell'ARPAC di Salerno per capire se il fiume Irno sia stato interessato dal sversamento del liquido finito a terra dopo la caduta di alcuni fusti di plastica in un ex capannone dell'MCM di Pellezzano che contenevano sostanze acide corrosive ed ammoniaca. Per avere dei dati certi però e capire se c'è tossicità bisognerà attendere i risultati dei prelievi inviati all'ARPAC di Agnano. Vediamo. Non dovrebbero esserci rischi di inquinamento per il fiume Irno perché potrebbe non essere stato interessato dallo sversamento del liquido finito a terra dopo la caduta di alcuni grossi fusti di plastica nell'ex capannone dell'MCM di Pellezzano che contenevano sostanze acide corrosive ed ammoniaca. Dopo l'allarme scattato nella notte di sabato nell'area dell'ex manifatture di fratte e di rilievi effettuati dall'ARPAC resta alta l'attenzione per un possibile rischio di inquinamento ambientale. Dopo la missione di responsabilità di un dipendente della ditta Soggeri SRL incaricata della bonifica dell'area dalla proprietà Lettieri che avrebbe ammesso che i fusti sarebbero caduti durante delle operazioni di movimento nell'area di smessa stamani il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha voluto recarsi personalmente negli uffici dell'ARPAC di Salerno per capire se il fiume Irno sia stato interessato dallo sversamento. Per avere dati certi e capire se c'è tossicità bisognerà attendere i risultati dei prelievi fatti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che ha disposto ulteriori verifiche sulle falde acquifere e sul terreno inviati alla sede di Agnano che dispone delle strumentazioni tecniche per l'analisi delle sostanze tossiche. Mi sono recato all'ARPAC per chiedere di persona l'UMI su quanto è in corso di elaborazione Parrebbe, mi daranno le risultanze formali parrebbe che il fiume non è stato interessato da sversamenti questa mattina avrebbero anche verificato la possibilità di darmi le risultanze per quanto riguarda i metalli pesanti che sono un ulteriore riscontro che loro devono fare per quanto riguarda le sostanze tossiche sono state inviate all'ARPAC di Agnano che è depositaria delle tecnologie per verificare l'inquinamento tossico per quanto riguarda i suoni e quant'altro. Allo Stato dell'Arte parrebbe che non ci siano particolari problemi la magistratura sta intervenendo ho chiesto al responsabile dell'ARPAC la possibilità di verifiche in sito dei suoni per quanto riguarda un'eventuale contaminazione mi è stato rassicurato che è già in corso per il resto, come lei diceva, io sono il sindaco di Salerno il sindaco e il mio collega di Pellezzano con il quale sono in stretto rapporto naturalmente sta curando gli aspetti relativi alla sanificazione del suolo credo che lui debba ordinare la sanificazione del suolo all'impresa o al proprietario l'impresa e il proprietario dovranno fare un piano che andrà sottoposto alle loro considerazioni dopodiché una volta autorizzati procedere alla sanificazione del suolo credo sostanzialmente che non ci siano rischi allo Stato dell'Arte almeno di approfondimenti ulteriori ma mi sentirei di stare sufficientemente tranquillo per il resto seguiremo di ora in ora quando succede e quando potrà succedere E proprio in riferimento ai fatti relativi allo sversamento di materiali tossici nella ex fabbrica della MCM che avrebbe interessato anche il fiume Irno il presidente della commissione trasparenza del comune di Salerno l'avvocato Antonio Camarota ha disposto l'audizione dell'assessore all'ambiente del comune capoluogo l'avvocato Angelo Caramanno con urgenza per la seduta di domani venerdì 21 febbraio alle ore 12 per le comunicazioni urgenti Recupero e valorizzazione del verde pubblico restauro degli elementi monumentali pubblica illuminazione panchine d'arredo urbano adeguati al nuovo aspetto della piazza un'area giochi per bambini questo è il progetto del comune di Salerno per piazza Alario ieri un incontro del comitato Salviamo piazza Alario potrebbe essere un'intesa con l'amministrazione su un eventuale progetto per dare un nuovo volto alla storica piazza salernitana oggetto negli anni di varie problematiche e manifestazioni per salvaguardarla ieri pomeriggio proprio mentre era in corso l'incontro l'amministrazione comunale di Salerno con una nota ha voluto diffondere che sta svolgendo un programma di riqualificazione urbanistica ed ambientale di piazza Alario un bel intervento per restituire alla fruizione collettivo un luogo di grande bellezza ed aggregazione sociale tanto caro a tutti i salernitani l'amministrazione ha precisato intende procedere con i lavori avendo chiare le priorità di interesse collettivo un intervento che tiene conto delle molteplici e diverse esigenze con riguardo a tutta la popolazione dalle famiglie con bambini ai più anziani è doveroso, prosegue la nota sottolineare come la richiesta di aree giochi per l'infanzia sia stata avanzata da più parti rappresentando una legittima aspettativa alla quale è doveroso corrispondere ci sposiamo in provincia la procura della Repubblica di Salerno ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei riguardi di 11 persone a cari delle quali vengono contestati a vario titolo i reati di abuso di ufficio e realizzazione di opere, lavori, indiformità o assenza di autorizzazioni per il montaggio delle cupole geotecniche dell'area archeologica di Pestum Installazione delle cupole geodetiche nell'area archeologica di Pestum il PM Carlo Rinaldi della Procura di Salerno ha notificato un avviso di conclusione di indagini preliminari nei riguardi di 11 persone contestando a vario titolo e in concorso i reati di abuso d'ufficio e realizzazione di opere indiformità o assenza di autorizzazioni coinvolti un funzionario apicale un ex responsabile d'area due tecnici del comune i legali rappresentanti di quattro società che montarono le sfere direttori dei lavori ed ex amministratori della Pestum l'indagine risale al 2014 allora quando il comune di Capaccio Pestum acquistò le tre sfere per 628.000 euro spendendone però altri 226.000 per le operazioni di installazione e assemblaggio al fine di ospitare la borsa mediterranea del turismo archeologico ipotizzata l'illegittimità delle determine con le quali l'affidamento della fornitura delle sfere fu frazionata in quattro distinte procedure a vantaggio di altrettante società diverse anziché ricorrere ad un'unica gara aperta facendo di fatto lievitare i costi per le opere accessorie da 19.000 a 228.000 euro in assenza di nuova delibera di giunta e determina a contrarre agli ex amministratori della Pestum e ai vari direttori dei lavori coinvolti viene contestata invece la presunta violazione di alcune norme del codice degli appalti nonché il mancato rispetto di specifiche tempistiche dettate da sovraindendenza e consiglio dei ministri per la rimozione delle cupole l'esecuzione delle opere in assenza di un progetto esecutivo e dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale oltre allo smaltimento irregolare degli inerti tutti gli indagati avranno ora 20 giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere sottoposti a formare interrogatorio dal pubblico ministero il quale poi valuterà di chiedere o meno il rinvio a giudizio Proseguono i lavori a Cava dei Tirreni dell'Istituto Don Bosco l'Istituto comprensivo Don Bosco il prossimo anno dovrebbe essere quello buono affinché le aule tornino ad essere aperte Proseguono i lavori di messa in sicurezza della scuola di Passiano il plesso che fu chiuso per gravi criticità statiche il 22 gennaio del 2018 dovrebbe essere pronto per l'inizio del prossimo anno scolastico per ospitare gli alunni della scuola primaria dell'infanzia e della scuola media dell'Istituto comprensivo Don Bosco i lavori di restyling per un importo complessivo di 1.400.000 euro per i quali l'amministrazione comunale ha acceso mutuo sono iniziati lo scorso settembre e prevedono la messa in sicurezza l'adeguamento sismico l'impiantistica efficientamento energetico e l'eliminazione delle barriere architettoniche tuttavia nel corso dei lavori sono emerse alte problematiche che saranno risolti con ulteriori interventi aggiuntivi nel frattempo come spiegato dal sindaco Servalli sono già stati finanziati alcuni interventi per la messa in sicurezza di altre quattro scuole quello delle nostre scuole e innanzitutto della loro condizione di sicurezza è un tema molto importante e noi abbiamo ereditato un patrimonio scolastico già di per sé abbastanza vecchio scuole costruite negli anni 50, 60, 70 mediamente e che nel corso degli anni sono state oggetto da una manutenzione di tipo ordinario per consentire le condizioni minime di dignità per andare a scuola però già a partire dalla scuola di Santa Lucia era una situazione molto molto compromessa molto delicata e siamo dovuti intervenire su quella scuola con un intervento importante poi stiamo facendo i lavori alla scuola di Passiano un altro impegno molto molto forte la ditta mi dice che la situazione che è stata trovata nella scuola di Passiano man mano che i lavori vanno avanti è di forte compromissione di forte compromissione e che ovviamente richiede ulteriori interventi che in un primo momento non erano stati neppure previsti dopodiché noi nell'elenco delle scuole che abbiamo con delle progettazioni esecutive già predisposte San Martino, Annunziata, San Cesario, Sant'Anna ci siamo fatti dire dai tecnici ci siamo fatti dare un ordine di priorità con un requisito esclusivamente tecnico da dove cominciare in ordine di necessità e quindi noi cominceremo subito con finanziare la progettazione esecutiva della scuola di Sant'Anna poi San Cesario, Annunziata e San Martino sulla base del principio prendiamo una scuola mettiamola in sicurezza e poi passiamo a un'altra scuola senza rattoppi senza interventi non risolutivi Restiamo in tema di edilizia scolastica ma ci spostiamo nella città dei Templi è stata inaugurata questa mattina con una cerimonia il nuovo polo scolastico di Capaccio che torna dopo il completamento dei lavori a disposizione degli alunni vediamo Sindaco, un momento atteso da tempo dalla comunità del Capoluogo un'opera consegnata alle mamme e ai bambini la cui realizzazione non era scontata visto che era anche senza copertura finanziaria Sì, io ricordo di questo in questo periodo l'anno scorso era l'istanza più pressante proprio qui a Capaccio Capoluogo perché si viveva un momento di grande disagio della comunità scolastica tutti quanti assiepati in un unico edificio scuola dell'infanzia, elementare, media e c'era un cantiere fermo però ecco quando gli impegni diventano doveri a settembre abbiamo già sciolto quel grande nudo perché già le scuole elementari sono passate nel edificio perché abbiamo ripreso i lavori abbiamo risolto il problema che era non semplice e oggi la scuola è quasi ultimata perché mancano delle opere esterne che provvederemo a realizzare spero presto però ecco la scuola è stata completata nelle opere essenziali tutti i ragazzi sono nel polo scolastico e quindi un impegno che è stato mantenuto una scuola che ha la sua dignità un impegno che è stato assecondato, mantenuto e quindi un'amministrazione che mantiene gli impegni è un'amministrazione che conserva la fiducia e la speranza si traduce in concretezza quindi una comunità che può gioire perché ecco la scuola che è una priorità assoluta del governo cittadino ottiene una risposta adeguata con Greta e quindi una bella giornata di sole ci fa ecco sorridere e una comunità può ecco guardare con speranza al futuro perché le generazioni future possono ecco svolgere le proprie attività scolastiche in una scuola che può essere chiamata tale. Sindaco un pensiero anche al compianto Franco Palumbo che volle quest'opera rinunciando insomma a una sede del comune per far spazio ai bambini Certamente Franco mio amico ex sindaco compianto sindaco Palumbo fece questa scelta di destinare questo edificio a scuola e ovviamente io non sono tra quelli che cancella le scelte operate dagli altri la responsabilità fa in modo che le scelte vanno assecondate e bisogna andare avanti e completare le opere Un momento di grande soddisfazione per la nostra amministrazione e soprattutto abbiamo ridato dignità a questi bambini per le attività didattiche perché era un momento atteso da tempo e da oggi in poi possono godere di un istituto a tutti gli effetti Un giorno tanto atteso davvero sperato ma voluto con tutte le nostre forze quindi per noi questo è un grande giorno un giorno in cui i ragazzi finalmente riacquistano la dignità di studenti studenti italiani con tutti i loro diritti sono felice per loro per la mia comunità scolastica per i docenti e per i genitori che ci hanno creduto sempre Ci spostiamo in Costiera Amalfitana è considerato nella top ten dei più famosi d'Italia il comune di Maiori cittadina della Divina nota per le sue bellezze paesaggistiche da oggi accoglie la 47esima edizione del Gran Carnevale di Maiori evento organizzato dal comune con ben tre sfilate di carri allegorici previste in settimane nel giorno del martedì grasso quattro carri allegorici per caratterizzare l'edizione 2020 del Gran Carnevale di Maiori che ruoterà attorno all'arte con Peace and Love in un mare di guai il mondo nelle nostre mani e Penso Positivo a cui si aggiunge un quinto carro fuori concorso dal titolo Ciao Darwin tre sfilate dei carri allegorici lungo il tratto di strada compresa tra via Nuova Chiunzi e il porto turistico di Maiori da oggi fino al prossimo primo marzo poi domenica 23 febbraio il giorno di carnevale martedì 25 febbraio ed ancora domenica primo marzo tre date ed un programma che si annuncia ancora una volta spettacolare è quello della 47esima edizione del Gran Carnevale di Maiori evento organizzato dal comune e finanziato dalla regione Campania che quest'anno ha ottenuto anche il patrocinio del comitato organizzatore delle celebrazioni per il centenario della nascita di Federico Fellini il cui logo campeggia accanto a quello dell'identità visiva dell'evento Maiori da mare dal carnevale a Fellini 100 un appuntamento dove figurano oltre agli eventi ludici dedicati ai bambini anche il concerto di Monica Sarnelli giusto per citarne qualcuno lo spettacolo teatrale di Rosalia Porcaro e il concerto del 2 Benesis la tematica di quest'anno del nostro Gran Carnevale è proprio l'arte intesa in senso ampio e gran parte degli eventi delle manifestazioni che faremo insieme alle sfidate saranno proprio dedicate al nostro maestro a cent'anni dalla sua nascita maestro Fellini a cent'anni dalla sua nascita la struttura portante del Carnevale sono i carri la costruzione dei carri da parte di questi maestri di carta pestai quest'anno gli abbiamo messo a disposizione questi capannoni nuovi che un po' hanno preso ancora più importante e impegnativo il lavoro che loro hanno fatto bravissimi da sempre con questa tecnica che loro utilizzano una tecnica particolare che modellano praticamente il ferro con sopra la carta pest la tecnica che usano forse in Italia pochi carta pestai forse solo a Putignano utilizzano questo tipo di tecnica e poi dei gruppi da ballo che accompagneranno le sfilate veramente preparatissimi sono soddisfatto anche perché in questi anni il Carnevale è cresciuto molto è cresciuto molto e ogni anno presentiamo ai nostri concittadini tutti i numerosissimi ospili anche quest'anno ci onoreranno della loro presenza veramente un Carnevale degno di questo nome degno della tradizione che c'è sempre stata qui a Maiuri Bentornati si alza il sipario sui festeggiamenti per il Carnevale anche e soprattutto a Salerno martedì prossimo al Teatro Augusteo l'amministrazione comunale ha organizzato la seconda edizione del Carnival Show uno spettacolo in maschera per tutta la famiglia con eventi gag e tante sorprese uno spettacolo per grandi e piccini tutti rigorosamente vestiti in maschera nel giorno di Carnevale martedì prossimo al Teatro Augusteo di Salerno l'amministrazione comunale in collaborazione con la Col di Rete e con la direzione artistica della New Age Animazione ha organizzato una festa in maschera con spettacoli ed eventi che si susseguiranno sul palco a partire dalle 17.30 antaclown bolle di sapone simpatiche gag intrattenimento sano saranno il comune denominatore dell'evento aperto a tutte le famiglie con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti all'ingresso un omaggio gastronomico offerto dalla Col di Rete con basetti di miele per gli spettatori uno spettacolo strepitoso la seconda edizione perché la prima è andata esplosiva e la seconda sarà ancora più esplosiva quindi io che sono il clown e ciò vi aspetto col clown Puzzetta col grande mago Giacomo Bonacci e soprattutto con una donna sul palco per la prima volta con le grandi illusioni e il trasformismo quindi vi aspettiamo si comincia assolutamente proprio sono stati questi i propositi l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione era giusto dare la possibilità alle famiglie e tanti bambini di passare un pomeriggio in allegria al teatro Agusteo fuori ci sarà chiaramente sempre un'educazione alla sala alimentazione da parte degli amici della Col di Rete che sono sempre disponibili con regalo gratuito del miele delle nocciole e delle melianurche tutti i prodotti del nostro territorio ci saranno poi dei fotografi che faranno le fotografie in maschera a tutti i bambini chiaramente a cui daremo gratuitamente e soprattutto ci sarà lo spettacolo dalle 17.30 ci tengo a dire ingresso libero fino ad esaurimento posti quindi bambini accorrete e portate dei vostri genitori ultima pagina nella città di Ippocrate non poteva mancare una squadra di calcio di medici l'idea è venuta Mario Passaro giovane dottore con la passione per il football che ha dato il via alla prima squadra della scuola medica salernitana di calcio divenendone il presidente appunto in panchina Italoleo il medico sociale della salernitana quella di Lotito e Mezzaroma stamani la conferenza stampa di presentazione domenica subito il derby con i colleghi napoletani della SD e Leo già rischia addirittura la panchina con l'ombra di Provenza che incalza vediamo per una volta appendono il camice bianco e indossano divisa rigorosamente granata con tanto di scarpini ai piedi l'ippocampo sul petto nella città di Ippocrate è stata presentata questa mattina la squadra di calcio della scuola medica salernitana nella sala convegni dell'ordine medici chirurghi e degli odontoiatri a Salerno l'iniziativa è stata fortemente voluta dal neo presidente della scuola medica salernitana calcio Mario Passaro che ha subito ingaggiato il dottor Italoleo medico sportivo della salernitana come allenatore della formazione che domenica prossima farà il suo esordio in Coppa Italia contro la SD Medici Napoli subito un derby con la panchina Granata addirittura già in discussione è una bellissima iniziativa dell'ordine dei medici che mi ha coinvolto e non potevo sicuramente rifiutare e sicuramente inizieremo già domenica c'è subito un derby tra l'altro sì contro l'ordine dei medici di Napoli quindi il presidente mi ha chiesto già dei risultati importanti già a partire da domenica c'è anche il premio partita eh no il premio partita è difficile averlo sicuramente però ce la metteremo tutta per ben figurare e onorare l'ordine dei medici di Salerno a proposito di colleghi come giocherai Italo Leo qual è il modulo non mi dire il 5-5 all'Auronso Canà no no il mio modulo preferito è il 4-2-3-1 quindi una squadra ad attacco il mio motto è nella fase difensiva fare prevenzione giustamente per ovvi motivi nella fase offensiva squadra chirurgica e letale è una bellissima iniziativa proposta da da un giovane da Mario Passaro che ho conosciuto quando era al senato accademico all'università degli studi di Salerno quindi un esempio un ragazzo che è un esempio un medico un'eccellenza salernitana ed ora nasce anche una scuola dell'ordine dei medici quindi voglio dire le buone pratiche si stanno mettendo in essere e questi sono gli esempi di giovani salernitani che vogliamo portare avanti e il comune di Salerno vuole sostenere eccellenze salernitane sicuramente lodevole l'iniziativa della prima squadra di calcio della scuola medica salernitana è il momento della pagina degli appuntamenti curata come sempre da Barbara Albero al Cinemateatro San Demetro di Via Dalmazia Salerno in programma quest'oggi il film in uscita nazionale Il richiamo della foresta gli spettacoli fino a domenica fatta eccezione per venerdì alle ore 17 alle 19.30 e alle 22 dal 2 marzo avrà inizio un nuovo programma dei film per l'ottantottesima edizione del Cineforum 18 film dal lunedì al mercoledì con agevolazioni e prezzi ridotti per i giovani per informazioni 089 22 T20489 www.cineteatrosanddemetrio.it Andiamo ti divertirai te lo prometto Il meteo lo spot e poi lo sport e poi lo spettacolo Ristorante e pizzeria Eureka I sapori del mare Previsioni del tempo Fornite da 3B Meteo Ben ritrovati la pagina dello sport Prima parte dedicata interamente alla Salernitana Errebus esterni per Giampiero Ventura E la grave infortunio occorso lunedì sera Alla Bentegodi di Verona a Cristiano Lombardi Obblicherà il trainer Granata Ad escogitare nuove soluzioni per sopperire All'assenza del tornante Scuola Lazio Lopez e Cursio sono in preallarme Ma non è da scartare l'ipotesi di un ritorno All'appassato per la gara con il Livorno Infatti sarà 3-5-2 Il servizio di Nicola Roberto Perso Cristiano Lombardi per il resto della stagione A meno di recuperi minacolosi per l'eventuale post-season La Salernitana deve trovare nuove soluzioni Per non perdere smalto sulle corsie laterali La ricerca dei quinti passa prima di tutto Per la conta dei disponibili Tra acciaccati, infortunati, riducita squalifica Ed elementi con scarso mutaggio nelle gambe Giampiero Ventura forse ora più che mai Sentirà la mancanza di quel terzino destro Che pareva funzionale nell'ottica Di un passaggio più stabile al 4-4-2 Ma soprattutto sa che dovrà fare a meno per molto tempo Di Cristiano Lombardi La cui esplosione aveva portato in dote gole assist a Ventura Vivacizzandone un poco lo sviluppo della manovra offensiva Incrementandone i ritmi ed aumentandone l'efficacia Non solo la forte spinta assicurata da Lombardi Sulla corsia destra Era stata il segreto del ritrovato feeling Con il gol di Milan Diuric Destinatario privilegiato dei cross dell'ala Di proprietà della Lazio Ora dunque Ventura dovrà studiare soluzioni alternative In realtà il tecnico ha già una base di partenza Perché in virtù dell'infortunio subito da Lombardi Prima del via del campionato Aveva ottenuto buone risposte da Cicerelli Schierato con continuità nel ruolo per l'inedito Di esterno destro del 3-5-2 E da Chine a sinistra La Salentana potrebbe ripartire da loro due Ammesso che Cicerelli venga abbandonato dalla cattiva sorte Dopo gli infortuni subiti contro Pescara e Chievo E Chine torni quello di inizio stagione Lopez e Curcio sono comunque pronti per dare il loro apporto E qualora uno dei due dovesse giocare dall'inizio domenica Ventura potrebbe dare un po' di riposo a Cicerelli Spostando proprio Chine a destra Resta sul tavolo anche l'opzione 4-4-2 Anche se Caro non è il terzino destro ideale Per la gara di domenica contro il Livorno Dovrebbe esserci il ritorno di Aia nel pacchetto difensivo Che tornerà all'assetto classico a tre Mentre a centrocampo Gijek e Maestro Dovrebbero essere confermati E dal posto di HACPAC però squalificato Giocherà Di Tacchio con Capezzi in alternativa L'ex Albasete non ha ancora debuttato in maglia granata Ed aspetta il suo momento In attacco di Uri ci sarà il punto fermo Probabile che ci sia un nuovo partner al suo fianco Jallov e Giannetti Insidiano Gondo Che ha giocato tanto e che nelle ultime partite Ha dato l'impressione di essere meno brillante Come dimostrano anche gli errori di mira sottoporta E da domenica prossima Dopo la sfida con il Livorno Dell'ex Roberto Breda La Salernitana sarà impegnata In un importante ciclo Di partite ravvicinate tra di loro Dopo la sfida con i Labronici Appunto e la trasferta di Frosinone Granata dovranno affrontare Nel turno infrasettimanale Il Venezia Ora più che mai la squadra di Ventura Dovranno dare un segnale importante Nonostante appunto i continui infortuni Sei partite prima dell'unica sosta prevista Nella girona di ritorno Il campionato cadetto Intensifica i ritmi E comincia ad entrare sempre più nel vivo Benevento a parte Dal secondo posto in giù C'è grande incertezza E le prossime giornate Potrebbero essere già decisive Scontri diretti ed incroci Tra formazioni che lottano Per restare in alto E quelle che vogliono evitare di sprofondare Saranno all'ordine del giorno E la Salernitana ne sa qualcosa Battuto un trapani Quasi all'ultima spiaggia I Granata sono caduti Contro il Chievo Anch'esso all'ultima chiamato quasi Per evitare di staccarsi troppo Dalla zona playoff E domenica alla Rechi Arriverà un apparentemente Derelitto Livorno Umiliato in casa dal Cosenza E prossimo a cambiare proprietà Non sarà però una passeggiata E questo Venture e suoi lo sanno bene Da una squadra disperata Ad una che non nasconde Le sue ambizioni di promozione Il passo è breve Visto che il 29 febbraio La Salernitana sarà di scena A Frosinone Che nel prossimo turno Sarà ospite di una guerritissima Cosenza In uno dei più classici Testa Coda Dopo la trasferta in Ciociaria La squadra di Ventura Ospiterà nel turno infrasettimanale Il Venezia Ancora a caccia di punti tranquillità Pochi giorni dopo Altro scontro potenzialmente D'alta quota Con il Perugia Un callo nonostante l'arrivo di Cosmi Ma ha deciso a tenere il passo Delle dirette rivali Il 13 marzo La Salernitana giocherà In anticipo col Pisa in casa Mentre il 21 sarà ospite di Lentella Altra compagine Che cerca un posto al sole Poi il campionato Si concederà una settimana di pausa Prima delle ultime otto giornate Una volata Nella volata Insomma La Serie B Si conferma il campionato più duro ed imprevedibile E l'unica certezza È che bisogna correre e fare punti L'esperienza recente Insegna Mai fermarsi E mai essere sicuri di niente Perché tutto è possibile Bene, era questa l'ultima notizia L'informazione TV Oggi Torna alle prossime edizioni Buon proseguimento con la programmazione E il palinsesto della nostra emittente Grazie, come sempre, per averci preferito Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it E clicca su TV Oggi On Demand Grazie, come sempre, per averci preferito Grazie.